Sono diverse le utenze che da ieri mattina sono rimaste senza acqua a causa di un guasto improvviso all'acquedotto del Bassosele. Il guasto purtroppo non potrà essere risolto nell'immediato e l'ASIS ha avvisato i cittadini che l'erogazione dell'acqua non avverrà prima di sabato 13 febbraio in mattinata. Il punto di rottura danno dell'acquedotto del Bassosele si è verificato nel territorio di Contursi. Da una prima stima temporale approssimativa il ripristino della fornitura idrica è prevista non prima di 24, 36 ore, salvo imprevisti.